buonasera a tutti ragazzi buon questo video parleremo del 41esimo episodio di zombie tsunami intanto venivo a precisarvi che del 93esimo episodio di angry shark evolution prima di tutto non era niente era al solito neanche sono arrivato al livello 10 l'avevo registrato ma si è cancellato ma non me ne frega niente in cambio la prossima volta che quando farò questo episodio ne farò due in modo che recupero quello della volta ok e adesso andiamo a vedere lo special san valentino nei zombie tsunami buona visione valentino raga giochiamo copido ho fatto un bel guaio la pagherai copido ho fatto un bel guaio la pagherai copido perfetto speciale san valentino ah gratis 30 civili bello mi piace e lo speciale san valentino bello anche se ci sono più di 45 gradi qui se domani casomai c'è fosse la neve per terra io al solito manderei foto e registrerei va bene fatto sta che ci sono già due gradi fuori è un vento forte facile quello dei civili ragazzi sì sì certo che le macchine vengono a posto che cosa fate vediamo che cosa fate bomba perfetto 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 mister Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Vediamo se fa vivere uno zombie a posto. Quartier Bacch Perfetto! Venti e quattro 32 Nooo! Aspettate! Niente! Comunque andiamo qui! Non ho capito questa missione! Aspettate! Ah ecco che ne devo dire! Perfetto! Vediamo! Adesso abbiamo iniziato! Vediamo cosa riusciamo a fare! Comunque come avete detto dal titolo resta quello! Speciale San Valentino in zombie tsunami! Ora possiamo andarci nell'Himalaya ragazzi! Perfetto! Tanto si sarà sciolto! Perfetto! 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 trasforma sei bombe in monete va bene giochiamo ma non devo avere mai di 5 zombie così faccio di più sei bombe niente c'è il mecca visto niente neve da nessuna parte perché si è sciolta a parte che c'era solo quel gelo ma solo fino a ieri c'era la neve qui ma con l'aumento di 35 gradi altri 35 gradi sono mandoli si è sciolta gold perfetto sei ne dobbiamo trasformare mi raccomando sei bombe uno due tre quattro cinque sei perfetto ora dobbiamo totalizzare 500 anche di più volendo himalaya vedete la neve si è sciolta però un po' continua a nevicare ma non non è più di tanto così ora qui sono scesi sapete quando più di 65 gradi sotto zero no non ricordo beh per un po' si è sciolta si vede facendo valanghe penso si si facendo valanghe non sarà proprio sciolta di natura così 400 dai 400 dai già ci sto arrivando manga pochissimo più questa è scelta Los Angeles Che fortuna ragazzi Proprio aveva un'orda Capiterà? No Uno soltanto Vediamo se deporà uno zombie Niente maledetto La pagherai cara Perfetto Vediamo Ottocento Mille e seicento Perfetto Zombie uccello Abbiamo superato il 30 E vediamo che facciamo Ah l'abbiamo portato A livello 2 Va bene Il video si può condividere qui Ok ragazzi Beh ragazzi Spero che questo video di Zombie Tsunami Il 41esio episodio Speciale San Valentino Di Zombie Tsunami E portiamo a livello 2 Lo zombie uccello Punk Vi sia piaciuto Scala Mi raccomando Mettete un bel like Segui su Instagram E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti